non l'ha capito, guardate quello io ho capito però i tasti bene, romantico bene bene ma sempre la ma bella ho capito il troiaio che ci sta a fare la fine erano tutti sul tetto, si la paccarina era piuttosto gentile e chi non ha la maschera è stato troia andate alla zona sicura ma bello io intanto non so se mi sento si ti sento vabbè raga io ve lo fincherò la bandiera vabbè siamo più protetti ecco l'altra sala di lacros vado nel campanile vado nel campanile c'erano 3 team ah non so quanti team sono arrivati qui vado a balli tutti fuori vado a balli tutti fuori rinungete il punto indicato e mettete in sicurezza l'area applausi conto di quanta gente ho visto un 3 team c'erano cristo e non dimmi che in banca oddio in banca del contratto ragazzi si ma io l'altro lo possibì vorrei scandarsi in teni 6 team con l'animità e aspetta un atto una terra non ho craccato e vici dai! un'altra terra dai 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 non ho craccato sono senza armi la maggior parte di loro sotto il camionero dove mi rimetto? sono qua dentro? fai fuori terra terra c'è un altro ci metto un altro no non c'è altro in giro non c'è altro in giro una terra ha fatto un po' ha fatto un po' ha fatto un po' su grigio striscia vado a arrestarlo io vado a arrestarlo io vado a arrestarlo io appo crea ma niente di proiettili confirmed devo scusare uno ragazzi grazie grazie ok uno mi sparava dal tetto ferito eh bisogna arrivo un altro da voi terra figate no merda qua 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 cazzo però cazzo eh ci siamo splittati eh nella muni compagno nel gulag se sopravvive può tornare in azione ricomincio qui dentro è qua ignorate quello che ho detto no movimento avete del gas in arrivo eccolo e l'ha detto salutando portati via tu come non detto movimento eccolo a terra uno movimento a che male raga in tre punti diversi stavamo in tre punti diversi raga sono morto in tre punti diversi vi avevo pingato questo palazzo qui questo un po' in 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 sopravvive con qui un avversaglio ce n'è vicini che tirano da tirassù riesci a salvarmi sta arrivando uno sono tutti qua, sono tutti là ci saremmo via grazie allo stesso va tranquillo ci siamo splittati tanto perchè c'erano tante persone si perchè ci siamo splittati non avevo le muni che cazzo faccio? se non mi splitto mi muoio basta io ero con te fuori e ho fatto il possibile no ma io il palazzo stavo dicendo non è che avete colpe non abbiamo nessuno colpe perchè c'erano tante persone abbiamo avuto ingaggi di sassista che a destra abbiamo fatto due temi si si c'erano tante persone tante 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 se vinci questo scontro togli è finita guadagnati la libertà soldato che c'è il s***o di bomba audio andri destra tua nessun spawn centrale nessun spawn destra tua destra tua adesso arriva a te destra tua porca troia menti attaccatissimo non è ancora finita il tuo team può pagare per farti uscire segna per favore segna apocra contatto ragazzi sti cazzi di quel c***o che hanno anche il loro cecchino si andiamo a tirarlo su non è una c***o d'arma mi prendi un po' di scudi io non ne ho tutto molto bello dove si va non li compri ok guardate ma ci riconcezziamo voglio mettere torre in movimento e se poi vieni qui a me mi serve uno scudo e sono felice io andiamo dentro adesso ballo e dovrà fare gli scudi e sarà divertentissimo oh bello ha problemi con il joystick non può dare in fretta l'on una mezza grazie no ballo sono a posto sono a posto vai tranquo ok non mi metta sto sotto per lasciare la roba devo far una roba un po' strana se cambialo c mi pimpi I amici Furo sta a f***ilus Se ne è la... E io sta volutando Eh Furo non è che sta a f***ilus Fai Andrei Non è bene, non è bene Sto alleato in arrivo 10, se Furo c'è il leccio P***! Ayo! Mi posso a prendere? No, no Mmm... Mi fai spottare Per te? Ma sono le matri, f***ilus Stiamo in po' della zona sicura Oh no no, non mi piace no, non so bene cosa stai facendo non so bene cosa stai facendo luttando buon per te secondo me ce la facevamo a no allora domanda, che dico se sta bandiera la tiriamo? si ma ragazzi spondetemi soltanto, vi basta prendere o no? no no furono per la macchina madonna wow wow gli occhi nella notte li passa a prendere? ditemelo adesso il manemico mi sta braccando, occhi aperti va bene apocra hai la taglia eh sei da solo perfetto un po' classico oh c'è un carcadino non so per essere utile la bandiera a fianco la prendo? eh prendo un loadout potrebbe spendermi nella fanculo guardate lo furro spavaldino eh io ve l'ho detto vi passo a prendere o no? no dai l'ho dato un altro po' che arriva in acqua vi dico solo questo quante casse sono? una che è pure in bilico cari di avvicinamento ma dove di quanti casse sono in fronte? si che se io fossi il bastardo gli do un colpo e va in acqua si? si appena mi prendo un butto però così la poca è grasso e lento no no giusto perchè tu cioè capisci che sei assoluto un cazzo di minaccio questo si madonna madonna lo sai vero? si si ehm ok no non lo faccio perchè è troppo da prank dai anche se la tentazione è fortissima è proprio fortissima mi stava mirando eh? madonna madonna non capisco questo colpo delle streghe ce l'ho sotto mirino e non lo faccio stanno tritando ah ispira tantissimo eeeh stanno tritando lì movimento diciamo che mi metto vicino a un muro e sono felice eccomi nemici dell'aria ignorate quello che ho detto nemici dell'aria si dice sulla strada eh bravo è che la su anche non c'è chi lo carca trago dove si va signori? eh fanculo ha preso tre taglie ma che cazzo come possiamo stare movimento volete andare a po- che lo sai che hai il cecchino? che andrea ha preso no eh? si si mi sai si andrea ha preso? si si ma dove cacchio stai andando? occhio qui conquista qui conquista qui conquista nemici dell'aria nemici dell'aria ragazzi non mi fate splittare qui c'è un altro nemico ok mi sa che è meglio che stiamo qui qui c'è un altro nemico merda oh eeeh quanta gente al benzinaio c'è un team uno due tre nemico ha perso le vostre specie è più quattro è arrivata adesso in vola non ho munizioni nemmeno per piangere ah? eh non chiedo mi sa che c'è stiamo qui belli belli si mi sai si calla? non ho un attimo tipo detto in movimento mi piace vado davvero un bel cecco lì a giallo c'era un ultimo che appena finito la conquista e si sta camberando esattamente lì in movimento il tizio quello è primo l'amico oh madò oh e qua ci sta accendo quello io sto dietro l'antenna e ciao a tutti ai vecchi e non dove ci si chiuderà questa safe? che strana ehm le ho entripe siamo passati se è un po' stupido che sbaglio ehm se riusciamo no 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 arriviamo subito perché siamo in volo noi vado sta sparando vabbè vedemolo vabbè vedemolo vabbè abbiamo preso le foglie lo so che è una pazza io, ma io prenderei questo cazzo di macchinina e andrei sparato alle... sotto sì, secondo me sì ho dovuto evitare tutto quello per... aspetta qui due, io fammi guidare a me che mi sento tanto quelli... guarda, guidi, guidi, guidi si, si, si vuoi tornare con noi? no, no, io vengo a andare veloce ma allora? eh, sto cercando le mie pistole cazzo allora prima che mi tirano un RPG mentre sto fermo via allora l'ho trovata quindi non venite? io non vengo ok, Apple? io sto già appiso ok, Aldri, ti aspettiamo quando vuoi vai, tranquo guardate questo Rale, guarda questo Rale guarda, fai dare un applicatore, vai tre a sinistra, due a destra oh eh sì, vai yuhuu cosa c'è? eh, un ultimo finale non ci do le braccia ok, prendiamoci i bagni arriva il gas vedete devo stare pure i bagni perchè secondo me si si chiude in mezzo al campo tutti nella zona sicurna ho della maschera eh eh, ragazzi Stiamo qui dai bagni perché secondo me si chiude tipo qui Adesso riusciamo a salire un pochettino Sì, arrivo Se volete salire saliamo Io voglio fare la bandiera non c'erano Io sto cercando di fare Le scale Di prendere munizioni più che altro Non mi sentirebbe Una volta me l'ho trovato male Ok, io so già Mi aspetto all'ingresso Ok, aspettiamo tutti No, no, aspettato Eh, Andre è abbastanza È tutto sopra, è tutto libero fino a sopra C'è pure una casa che non ho aperto Secondo me questa si chiude qui, guardate Qui Si riusciamo a prenderci questo sottoportico è ottimo Che cazzo sto sbattuto la porta Io, 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 sono sotto di te Io voglio comprarmi la maschera Aspetta Guarda, ci sei Guarda, ci sei Io sto salendo Ah, poi riusciamo a prenderci il portico giallo? Basta Mi piace Al giallo c'è un portico Al giallo c'è un portico Allora, questo possiamo fare Sì, questo portico qui, eccolo qui In movimento Non sono con te io, eh Però c'è gente da... C'è gente da forza qua Io non vado nessuno Guarda, la gaspa e munizioni semplicate Oh, assolutamente Vado su, bravo? Eh, no, no, scendiamo... Andiamo alla bandiera Prima che ripie gente, veramente Ho messo qua Sono marcato per l'equipaggiamento Andiamo alla bandiera Gas in movimento Nuova zona scura in più in water Sì Vai, vai Sì, è sotto Nel portico di sotto Oh, no Lo vedo Chi rimane sopra? Ma tu non rimane sopra? Ma faccio... Ma... Faccio io, faccio io Rimanete sopra Sì Ma lo rimani tu sopra Va bene Ma dai, ragazzi Dobbiamo prendere per forza l'ingresso delle prigioni Quello di sotto Dove eravamo sotto? Dove ne voglio? Informazioni tattiche ottenute Ottimo lavoro Siamo al negozio Compriamo qualcosa Mi prendo autorezzo e vi do mille Ragazzi ci dobbiamo prendere il 18 Il 18 ci dobbiamo prendere Adesso Questa è vero che uscite Non mi ha scoperto Ah, sì, arrivo Guardi, si, cocurro che non la conosco Dove stai andando? Eh, non so posto Qui Qui Guarda Qui, perfetto Qui Siamo nella zona sicura Occhio ai nemici Ma scusa, ma rimane un attimo atteso Un punto in scendio Eh, ti tritano tutti i team in volo Allora, nemici, sono tutti qua In movimento Facciamo di totale tra loro Nemico C'è un due team Oh, pingo, pingo, pingo gente al mio tovest Qui c'è un bersaglio Qui c'è un bersaglio Immobili L'avevo pingato gente Anche io l'avevo pingata Ragazzo, io vorrei tritarli, porca troia Vabbè, facciamo le piastre in endgame No, non facevoci spottare Sono 30 ancora troppi team Siamo proprio messi benissimo adesso Sì Ok, sono rimasti in due Uno Nemico Non facciamoci spottare E due Sono in due Se la balessa te l'ho detto di sì Pingo, stronzi Davanti a noi Nord Nord-Ovest Quanti metri Cominciamo a avvicinare 50 metri 34 metri 36 metri Sì, sono sotto le prigioni Sono sotto le prigioni questi No, sono un po' fuori Movimento Sei allontanato Ma che cazzo Ho detto che sono sotto le prigioni Le prigioni coprono tutta la... Minta, non capisco se in alto a inbound Io bingo ancora 20 metri alla mia sinistra Mi muovo Cazzo Eh, quello Lasciate stare Ma cazzo è quello? Gassi in arrivo Spostamento della zona sicura Mi arriva, mo' audio E... Piano Nemico Qui c'è un bersaglio Arriva un lancio d'equipaggiamento Io sono senza maschera GC Manco no Io sì Uabini Ragazzi Guarda, ma quanti cazzo Che ne stanno arrivando Qui qua già entri Ma noi abbiamo like rispetto a loro Non sei silenziato, Valo Non sei silenziato Non c'è fino a 5 No, lo so Per quello non sparo Ah, ma dov'è rugarmi? Sono sull'invento Un team intero Movimento Movimento Ah, tenendo aiuti Tenendo il portico Segnalo un bersaglio perchè non è vero non mi ha visto mattagaz domani così siamo nella zona sicura occhio ai nemici 19 persone se il team la corsa un bel po' io mi sa che scenderei ma delle pietaglie aspettate all'ultimo intanto ci sono io sotto perchè questi tipi verranno da questo lato per forza senza fresca fresca oppure sai molti cosa stanno facendo in questo momento? stanno tenendo questo margine qui dove c'è domani perchè lì c'è l'uscita della prigione più i bagni e si è coperta dalla fossa qui c'è gente uno e due in movimento ignorate quello che ho detto col cazzo che hanno un fantasma che si utilizza ok qui c'è un bersaglio segnalo un bersaglio manca ancora qualcuno ma dovete andare arrivare una marea di persone la gialla la gialla arriverà una marea di persone Questa è lì qua? Cazzo la scuola! Non scendere per forza! No! Eh, scendete, abbastate! Siamo troppo niti, troppo niti, siamo troppo niti! Impinghe? Segnalo un bel taglio! Attenti! Una a terra! Uno qua, non là! Ne restano solo dieci! Gassi in avvicinamento! Due a terra! Manca ancora qualcuno! Eccolo lì! Movimento! Aspettiamoli! Tre team! Tre team! Sono due e due! Pucciamoli! 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 Sono lì con lo stesso! Sì! Sto pusendo io! Io copro dietro! Restano solo quattro nemici! Sai cosa fare! Sì! Non avevano speranze! Sì! Sì! Ottimo! Sì! 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 Mammacula! Bravi ragazzi! Grandi! Mi è piaciuta! Buu! Vabbè! Questa è stata tattica! Andre è top! Andre! Lo so! Sì! Pucciamoli! Vabbè! Vabbè! Lasciatemi la tuta che dovrà estarla registrata! Oh! Oddio! Lo so! Vabbè! Io non muoto una volta! Ma con la MK9 mi sono tornata le pagnotte! Che palle! Vabbè! 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 bello bello ma questa era la partita fulminata dove abbiamo ucciso due temi all'inizio